Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto per il gruppo 5 Stelle il consigliere Viole a 14 minuti e 45 secondi. Per esprimere un parere favorevole al provvedimento da parte del gruppo Movimento 5 Stelle io penso che abbiamo lavorato, abbiamo messo sul tavolo dei contenuti, li abbiamo condivisi, abbiamo lavorato 5 mesi con il Presidente Ciocca, con il relatore Malvezzi, abbiamo dimostrato ancora una volta che i contenuti non ci mancano, che siamo in grado di guardare soprattutto sulla tematica del lavoro e dell'impresa e di raccogliere quelle che sono le necessità espresse dal territorio e dall'impresa che oggi vive un momento di difficoltà. E quindi con lo stesso a forza, con le stesse intenzioni noi chiediamo alla Giunta in questo momento, dopo che sarà approvato questo provvedimento, di avere coraggio nel prendere dei provvedimenti a favore e a supporto dell'impresa lombarda. Supporto dell'impresa lombarda vuol dire anche supporto al mondo del lavoro. Non voglio entrare qua in giudizi sulla flessibilità, non flessibilità perché non ci appartiene, non è nostra competenza. Questo lo discuteranno a Roma e a Roma ci sono i nostri rappresentanti e discuteranno sulle questioni legate al mondo del lavoro. Noi rimaniamo su quello che è impresa. Impresa crea posti di lavoro che non vengono creati per legge o per decreto, ma migliorando le condizioni di vivibilità e di attrattività di un territorio. Certo dispiace aver visto bocciato il mio ordine del giorno che prevedeva un'attenzione non particolare, ma comunque un'attenzione a quei territori periferici che troppo spesso Regione Lombardia dimentica. Mi sarei davvero aspettato un'attenzione maggiore perché dobbiamo essere in grado anche di ridare speranze, di ridare attrattività a quei territori che non sono per forza, per condizioni morfologiche, attrattivi. Quindi parlo delle valli, parlo del territorio montano che tanto hanno dato a Regione Lombardia negli anni e che magari si aspettano un po' più di attenzione in un momento di difficoltà dalla stessa Regione e dallo stesso ente. Quindi noi come Movimento saremo al fianco, come dicevo anche prima, per mettere in atto quegli strumenti e per aiutare l'assessorato se ce ne sarà bisogno, per quegli strumenti che nell'immediato sappiano dare una risposta ai bisogni delle imprese di Regione Lombardia e allo stesso tempo continueremo a lavorare assumendoci il compito di monitoraggio e di controllo delle azioni che verranno intraprese. Quindi per noi è fondamentale questo, bisogna fare presto, bisogna farlo in modo chiaro, quindi chiediamo anche, come già l'ordine del giorno chiede, una razionalizzazione delle agevolazioni dei vari bandi, di modo che siano ridotti nel numero, siano molto più chiari e sia molto più semplice accedervi e anche una vera e seria valorizzazione degli ster, perché se è vero che è stato bocciato un ordine del giorno che dava un'attenzione particolare alle valli, è vero che l'ordine del giorno comune presenta una rivalutazione di quelli che sono gli sportelli degli ster, che sono comunque sedi periferiche. Chiedo scusi, un po' di attenzione, per favore, per favore, prego consigliere Violi. Che sono le sedi periferiche di Regione Lombardia e quindi magari da lì possiamo ripartire essendo in grado di raccogliere le necessità di ogni singolo territorio, grazie. La ringrazio, consigliere Violi, ha chiesto di intervenire a dichiarazione di voto, Presidente. Un altro modo di vedere è molto più importante, quelli sul processo produttivo, che sono quelli che poi, visti i casi in Lombardia anche degli ultimi mesi, sono quelli che magari mettono a repentaglio, se non utilizzati correttamente, la salute e la sicurezza e dei lavoratori ma anche dei cittadini che vivono lo stesso territorio. Quindi sicuramente va bene la sburocratizzazione, migliorando i controlli siamo anche in grado di dire all'impresa, lavora, non ti preoccupare, fai tutto senza lacci o laccioli che ti frenino, ti diamo noi una lista, una checklist sulle cose che devi fare, poi però rispondi a dei controlli severi e seri in campo. Quindi questo permetterà anche, e noi l'abbiamo richiamato più volte nel progetto di legge, anche un'attenzione e un rispetto di quello che è l'ambiente, di quello che è la salute e di quello che è la sicurezza dei cittadini, perché è importante fare impresa e altrettanto importante il concetto che l'impresa deve essere sostenibile e deve relazionarsi, deve avere una responsabilità sociale, elemento richiamato più volte questa mattina nei confronti del territorio che la ospita, perché non dimentichiamoci che un'impresa è ospite di un territorio, con quel territorio deve avere delle relazioni sociali e con i lavoratori che è in grado di richiamare e anche nel rispetto dei cittadini che condividono con l'impresa quel territorio. Elemento anche più importante che era nel nostro programma elettorale che è comunque innovativo, non sarà la risoluzione di tutti i problemi, è quello legato alla camera di compensazione o alla moneta complementare, che non deve diventare nessuna moneta con nessuna effigie, deve diventare uno strumento, un elemento utile o uno degli strumenti, elementi utili per dare un attimo nuovo credito all'impresa. Abbiamo avuto diversi incontri con alcune associazioni, alcuni consorzi che si occupano di camere di compensazione in regione Lombardia, abbiamo visto che sono elementi davvero innovativi che già esistono in altre realtà del nostro territorio nazionale, in altre realtà a livello internazionale, leggevo giusto stamattina sul giornale che ad esempio in Gran Bretagna Ebay utilizzerà il bitcoin per le transazioni tra privati, quindi è un elemento di innovazione, altri paesi già lo utilizzano, lo utilizzano fra le imprese, oggi leggevo questa innovazione addirittura all'utilizzo in parte tra privati, quindi secondo noi è un elemento interessante e non vogliamo fare né demagogia né nulla, è davvero un elemento che va messo sul tavolo con semplicità, va affrontato con serenità senza la paura che sia strumentalizzato o che si possa pensare alla moneta lombarda o all'effigie di qualsivoglia politico o statista lombardo, quindi per noi è importante questo, sono importanti anche gli elementi che richiamano all'aggregazione delle imprese perché noi sappiamo che regione Lombardia è caratterizzata soprattutto da piccole e piccolissime imprese che hanno delle peculiarità e delle professionalità elevatissime e quindi come la vediamo noi è che queste imprese devono rimanere tali, devono avere la loro indipendenza perché gli imprenditori e il tessuto imprenditoriale Lombardo è strutturato in questo modo ormai da tempo ma devono anche essere in grado di fare sistema su quello che gli interessa e per l'internazionalizzazione e per la partecipazione a missioni e per elementi che li possono caratterizzare, unire e creare delle filiere interessanti e attrattive sia quando si va all'estero sia quando si portano qua le nostre imprese. Certo è un ramarico poi vedere, leggevo stamattina la lettera di un vice sindaco, questo nostro progetto di legge va verso l'internazionalizzazione delle imprese, come dicevo prima, leggo un vice sindaco, lo Stato, il Ministero taglia i fondi alla scuola e una scuola è costretta a tagliare a metà un corso d'inglese, penso che la formazione, l'ha detto anche il collega Girelli prima, è un elemento fondamentale nella crescita del tessuto economico e imprenditoriale Lombardo. Se noi vediamo poi dallo Stato centrale e in parte anche da Regione Lombardia, d'Italia quella che è la scuola pubblica, quella che è la formazione delle nuove leve del futuro che saranno in grado di investire con le proprie capacità professionali e personali nel nuovo tessuto economico Lombardo e quindi creare davvero attrattività e creare un valore aggiunto al nostro territorio e alla nostra economia, ecco penso che questi segnali vadano nella direzione opposta, quindi noi possiamo impegnarci a fare le leggi migliori nella speranza che poi e nella certezza che la Giunta metterà in atto degli strumenti funzionali e poi però abbiamo tutta la parte legata alla formazione che è davvero il futuro della nostra impresa e del nostro territorio che vede dei grossi tagli e delle dubbie ristrutturazioni. Quindi assolutamente noi siamo favorevoli a questo progetto di legge, ripeto come esordito, freniamo i facili entusiasmi e diamo correttamente alle imprese che hanno delle aspettative nei nostri confronti e nei confronti di questo progetto di legge la misura che questo progetto di legge riporta, quindi in parte le riforme sugli strumenti, in parte le riforme sulla burocrazia ma manca poi tutta una fase attuativa e noi siamo a disposizione per collaborare nei prossimi mesi per mettere in campo tutte quelle azioni concrete che serviranno per dare supporto al nostro sistema economico e alle nostre imprese in Lombardia. Mi permetto anche in questa fase di presentare gli ordini del giorno che ho sottoscritto, sono due ordini del giorno che più o meno vanno nella stessa direzione, uno è legato al telelavoro perché il telelavoro del futuro è quello che permetterà il risparmio di territorio, il risparmio di inquinamento e permetterà alle persone su certe tipologie di lavoro soprattutto nel terziario ma non solo di lavorare da casa e quindi conciliare il tempo tra lavoro e famiglia in modo molto più semplice, allo stesso modo evitare code e ingorghi le necessità di nuove autostrade e di nuovo cemento sul territorio e quindi per noi questo progetto di legge deve vedere anche quest'ordine del giorno legato, dobbiamo essere in grado magari nei bandi di dare delle premialità, degli incentivi a chi utilizza questo strumento. Allo stesso modo una particolare attenzione a quella che è l'economia di montagna, sono stato questo fine settimana in Val Camonica ma io vengo da quelle zone e purtroppo le zone vallive si stanno spopolando, è un peccato perché davvero poi vediamo Milano piena di ingorghi e delle valli che sono le zone naturalistiche, paesaggistiche e posti dove vivere che sono eccezionali e incredibili. Attraverso lo strumento del telelavoro ma anche attraverso l'incentivo alle aziende che producono valore aggiunto su quei territori, la regione Lombardia deve essere in grado di dare una risposta e di avere una particolare attenzione nei confronti di queste realtà produttive. Quindi questi sono i miei due ordini del giorno e io spero che saranno accolti da tutta l'aula perché vanno davvero nell'ordine del buonsenso e nell'ordine del rispetto dei territori che non sono solo Milano e che sono tutti quelli periferici della Lombardia e nel rispetto di una tipologia del lavoro che in altri stati ormai occupa percentuali elevate del totale degli occupati, in Lombardia e in Italia sono ancora troppo basse. Grazie.